Ho visto fare a Claudio Sala delle cose che nemmeno Pelé le ha fatte. Indimenticabile, Claudio mi ha fatto godere dal campo. Ne è così convinto anche Pianelli che per avere il suo cartellino versa nelle casse del Napoli la bellezza di 470 milioni. Claudio Sala è una mezzala dalla incerta collocazione tattica, ma dalla classe cristallina e dal dribbling efficace. Una forza incredibile sulle gambe, stradicava gli avversari, una facilità di dribbling incredibile. Più veniva assediato, più veniva circoscritto nel raggio d'azione, più si esaltava quando veniva marcato strettamente.